Al via oggi con la presentazione alle scuole ed un convegno dedicato, il ricco programma dell'edizione 2023 della Festa di Lischietti, la manifestazione popolare tradizione del comune di Terrasini e si tratta di una festa unica al mondo, dichiara il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, un patrimonio immateriale di cui ci pregiamo e per questo continuiamo a valorizzare. Ed effettivamente la Festa di Lischietti, ovvero la festa degli scapoli o festa dell'albero, non solo è l'unica nel suo genere ma vanta anche antiche origini, essendo nata nel 1860. Protagonista di questa tradizione è l'albero, simbolo della vita e della fecondità, in particolare un melangolo di circa 50 kg che deve essere alzato con una sola mano dagli schietti, ovvero i celebri del paese. A dimostrazione di essere degni della zita, cioè della fidanzata o della promessa sposa. Una tradizione che abbiamo rinnovato, spiegano i presidenti del comitato Festa di Lischietti, Matteo Cusumano e Roberto Palazzolo, organizzando anche la gara dell'alzata dell'albero e creando un evento ad hoc anche per i più piccoli, con l'alzata dell'albero dei pulcini per le vie del paese. È una festa che viene celebrata durante il periodo pasquale, in particolare il sabato e la domenica di Pasqua, ma che richiama anche la festa di primavera, pagana, dedicata al dio Adone, aggiunge Nuccio Anselmo, direttore artistico del comune di Terrasini, e a cui noi di Terrasini siamo molto affezionati, tanto che durante questo periodo sono tanti i fuorisede che tornano appositamente per parteciparvi. La festa di Lischietti è, non a caso, anche inserita nel registro delle eredità immateriali di Sicilia, e quest'anno la manifestazione vanta un ricco e variegato programma, che si dispiegherà da oggi, mercoledì 5 aprile, a domenica 16 aprile. Tra gli appuntamenti di punta spicca il concerto della rock band italiana famosa in tutto il mondo, The Colors, che si esibirà in piazza Duomo la domenica di Pasqua, 9 aprile, alle ore 22. Mentre sabato 15 aprile, in piazza Falcone e Borsellino, si terrà il Terrasini Cabaret Show, con i respinti Lupetto e Batman. Presenterà lo spettacolo Cristino di Stefano, come da tradizione la cosiddetta alzata dell'albero di Lischietti per le vie del paese, e sotto il balcone della Zita si terrà la domenica di Pasqua, 9 aprile, a partire dalle ore 9.30, mentre la gara dell'alzata comincerà alle ore 14.30 da piazza Duomo. Alle 24 lo spettacolo pirotecnico, sabato 15 aprile, prevista la sfilata equestre per le vie del paese, organizzata dall'Amazzone Nelli Serio, con partenza alle ore 14.30 dalla Scuola Media Papa Giovanni XXIII, a seguire l'addobbo dell'albero dei Pulcini alle ore 18.30 in piazza Duomo. La festa si concluderà domenica 16 aprile con l'alzata dell'albero dei Pulcini per le vie del paese, alle ore 10.30. Sempre nella stessa giornata, a partire dalle 14.30, si terrà la sfilata dei carretti siciliani, tamurrinara, gruppi folcoristici e banda musicale per le vie del paese. E infine alle ore 17.30 l'alzata dell'albero dei Pulcini, la premiazione e la degustazione. Maccarronata, in piazza Falcone Borsellino. E l'intero programma è stato presentato ieri pomeriggio alla conferenza stampa, organizzata presso la sala conferenze dell'ufficio turismo del comune di Terrasini. Sono intervenuti tra gli altri il sindaco della città, Giosuè Maniaci, l'assessore al turismo, Vincenzo Cusumano, il presidente della Proloco, Massimo Gerilli, il direttore artistico, Nuccio Anselmo, i presidenti del comitato festa di Rischietti, Matteo Cusumano e Roberto Palazzolo e la dottoressa Vera Abbate, capo aria turismo. Presenti anche la vicepresidente del consiglio comunale, Erminia Serio ed Enza Maria Palazzolo e Francesca Caracchiolo dell'ufficio turismo. La manifestazione è organizzata dal comune di Terrasini, in sinergia con il comitato festa di Rischietti, la Proloco di Terrasini e altre associazioni del territorio. Anche quest'anno siamo fieri e orgogliosi della nostra festa, una festa unica perché si svolge solo nel paese di Terrasini. Voglio continuare e voglio invitarvi tutti a venire a vedere quello che facciamo, quello che riesce a fare l'ente pubblico comune con la Proloco, la protezione civile, ma soprattutto con i ragazzi di un comitato che si curano di addobbare l'albero, di andare a scegliere l'albero, di tagliarlo, di entrare nel vivo di una tradizione che è particolare. La nostra festa è una prova di forza, è una prova di viralità, ma anche una prova di rinascita nel periodo pasquale. Simbolicamente si svolge proprio nel giorno di Pasqua e quindi noi siamo legati alla primavera, siamo legati a questi simboli pagani che negli anni poi sono stati comunque accettati e anche con la Chiesa oggi abbiamo tante cose in comune e facciamo questa festa il giorno del sabato di Pasqua, così come la domenica e tramandiamo la tradizione anche alla domenica successiva proprio ai più piccoli. Quindi venite a Terrasigni, abbiamo tantissima dall'intrattenimento musicale alle sfilate dei gruppi folcloristici, al cabaret proprio per rendere questa festa unica e speciale. Dura da circa oltre 100 anni questa festa, si tratta di un albero di arancia amara che viene addobbato con tutti i fazzoletti, ciancianelle, dei vari componenti che fanno parte dell'albero. Viene fatto di un peso di circa 50 kg e viene alzato con un braccio sotto il balcone della zita. Stavolta significava che prima del matrimonio chi riusciva ad alzare questo albero sotto il balcone della zita e allora si poteva sposare. Altrimenti non si poteva sposare se lui non riusciva ad alzare questo albero e i genitori automaticamente gli dicevano che questo zito non andava bene quindi si doveva rifare di nuovo un fidanzamento a parte. Oggi invece noi abbiamo creato questa festa degli schetti l'abbiamo fatta con tante varie categorie, categorie marietate, categorie schetti, categorie pulcini che sono i pulcini sono il frutto che noi coltiviamo per poi raccogliere semi da grande. Io ho fatto parte anche dei bambini, adesso mi trovo qua, sono pure presidente di questa festa ci sono premi, ci sono un sacco di cose, quindi adesso la facciamo con mangiate ci riuniamo nei vari quartieri, portiamo l'arbero un po' dappertutto. Per le 22, il giorno di Pasqua, giorno 9, è un evento unico, i The Colors appunto stiamo aspettando questo gruppo che è un gruppo internazionale molto sentito, aspetteremo molta gente dopo di ciò abbiamo anche degli eventi tra cui la mangiata, che è caratteristica, dove c'è la carne di crasso le arance, il cannolo tipico siciliano insomma, una cosa proprio tipica siciliana dove racchiude un pochettino tutta la tradizione, la cultura, la storia della nostra festa di Elischietti.